Siamo con Albino Celato alla De Castelli di Crocetta del Montello. Quello dei Celato è un nome storico per quanto riguarda il ferro e l'artigianato di alta gamma come evoluzione moderna, vero, che raccoglie una lunga tradizione. Da questa grandezza è l'apparenza dove raccogliamo e raccontiamo un po' la storia della nostra famiglia, dei pezzi che usava mio nono per forgiare il ferro, per ritenare i pezzi con cui batteva la mezza del ferro sul maglio, dei pezzi di rame della produzione degli anni 70-60 del mio padre e si raccoglie qui tutti questi oggetti che veramente rappresentano la storia della mia famiglia. Per arrivare poi qui, invece ad essere quello che è l'attuale, che è molto naturalmente la raccolta di tutti i disegni, con i server, con le decidazioni della vela, ci piace raccogliere tutti i progetti che abbiamo fatto in giro per il mondo con le varie tipologie di prodotto finito e con il disegno, poi schizzo dall'architetto. Questo era un lavoro che abbiamo fatto in Kazakistan per il rivestimento di una parete di una casa privata, oppure questo è un negozio, anzi un ristorante che abbiamo fatto a Damsen con il rivestimento di rame. Sono elementi che rimarranno poi nel tempo, non solo freddi all'interno del computer, ma che continuano ad essere toccati con mano. È artigianalità che si sposa con il design, tra i clienti ci diceva anche nomi come Maserati, per la quale avete fatto componenti come Battitacco, Cruscotti. Sì, abbiamo fatto per la Maserati questa esperienza di allestire delle auto con delle rifiniture scelte dal più limite e andavamo a coprire il cruscotto, che sarà un esempio di un cruscotto della Maserati, del SUV della Maserati, oppure quello che abbiamo fatto, l'ultimo, la collaborazione con Samsung, che con loro abbiamo fatto il rivestimento di un frigorifero, una macchina del freddo, perché è una cosa incredibile come capacità tecnica dell'oggetto, e loro, Maserati, hanno usato i nostri rivestimenti di nostri materiali e addirittura l'hanno marchiato dei castelli, hanno avuto marchiare dei castelli. Qui è stata la massima, anche soddisfazione, di poter collaborare. Difficoltà, perché non è facile lavorare con un'azienda del genere, che hanno un controllo di qualità pauroso e pazzesco, per riuscire a dare, a far fronte alle loro richieste, a contentarli, a essere felici. E loro hanno fatto proprio una comunicazione, una campagna stampa, solo per il mercato coreano, perché viene distribuito solo nel mercato coreano, di un oggetto come questo, è assolutamente un risultato importantissimo per l'azienda. Grazie, e del vino celato. Grazie a voi.